Buongiorno a tutti, benvenuti a una nuova intervista di Bono Bright, ho il piacere di avere accanto a me Andrea Morello Buonasera a tutti Farmacista, dalle grandi esperienze professionali, anche diverse, anche cuoco, operatore ayurvedico e oggi sul palco È una prima volta emozionante, ma comunque divertente A nome delle farmacie comunali a parlarci dei saluti e alimentazione Chiedo subito Andrea, insomma l'invecchiamento, ci andiamo incontro tutti, c'è anche una vita più lunga, maggiore l'angelità Come si può far fronte all'invecchiamento e alle malattie croniche che subentrano in inevitabilmente? Allora, il meccanismo di base che sta, non per semplificare, ma un po' all'invecchiamento e all'innesco di malattie è lo stress ossidativo, cioè quello che sta proprio alla base del consumo nell'organismo delle riserve di antiossidanti cioè le difese che abbiamo contro delle molecole reattive che sono i radicali liberi Questi sono prodotti ogni giorno in seguito alle reazioni biochimiche, allo stress, a tutto quello che facciamo vivendo ogni giorno e quindi l'organismo ha già delle riserve di antiossidanti che sono vitamina A, vitamina C, vitamina E, acidi olipoico e così via che sono nell'organismo, nella pelle e negli occhi Cosa succede? Che esponendoci all'inquinamento, al fumo, alle radiazioni del sole questi vengono consumati, quindi se noi li integriamo attraverso l'alimentazione o gli integratori il corpo comincia pian piano a invecchiare e quindi per questo è importante vadare molto bene a che cosa si mangia e a cibi che siano ricchi di questi elementi per rallentare il fenomeno dell'invecchiamento Ecco, io invece se non ti parlo di glicemia e alimentazione, come prevenire anche magari in forma di diabete? Ecco, il discorso del diabete e della glicemia è legato al discorso degli alimenti perché ci sono alimenti che appena ingeriti innescano un picco di glucosio nel sangue e che quindi hanno un indice glicemico elevato altri alimenti come pane integrale, ricco di fibre, pane nero, eccetera sono a basso indice glicemico, ovvero una volta ingeriti nel tempo, molto lentamente grazie alla presenza di fibre cedono glucosio questo fa sì che il pancreas non venga stressato nel secerno di insulina e si ha quindi nel sangue proprio un livello ottimale di glucosio viceversa quando questo non succede, quindi si consumano molti zuccheri raffinati molti dolci, pane bianco, eccetera si ha un continuo emettere di glucosio nel sangue che causa l'accumulo di glicogeno sotto forma di grasso soprattutto nella zona addominale e anche in altre zone il grasso di per sé non è poi un tessuto morto ma a sua volta emette dei segnali infiammatori nell'organismo e quindi da lì si ha tutto uno sviluppo di patologie come il diabete quello acquisito che quindi si può controllare in base a quello che si mangia e scegliendo quindi cibi che non causino questi pitti di glucosio nel sangue il tema è molto importante soprattutto nei bambini e negli adolescenti perché spesso mangiano brioche e altre cose che sono negative ecco una curiosità, insomma uso il termine curiosità perché forse non si è abituati a parlarne molto tra umore e alimentazione c'è un legame forte che si può forse considerare bidirezionale considerando come l'umore alle volte si sa incide su come mangiamo ma anche su come l'alimentazione può incidere sullo stress magari o su alcune sfumature del nostro umore certo, basta pensare alla fame nervosa quando ci si rimpinza di cose senza pensare a quello che si sta mangiando quando si mangia guardando la televisione eccetera l'umore poi riguarderà appunto sia il discorso magari della depressione e allora alcuni cibi che contengono per esempio aminoacido triplofano e il precursore della serotonina che è l'ormone del benessere anche il cioccolato amaro per esempio ha grandi benefici come i polifenoli che sono antiossidanti e sostanze anti invecchiamento oltre appunto a dare proprio un effetto positivo sull'umore ma sull'umore c'è anche il discorso dello stress lo stress è legato alla vita quotidiana e al fatto che sotto stress si produce cortisolo che è un ormone che deprime la risposta immunitaria questo fa sì che si sia più esposti a diverse patologie da quelle infettive anche a quelle immunitarie e allora il consumo di sostanze come piante per esempio adattogene come la rodiola, il ginseng, l'eleutero cocco permettono all'organismo di rispondere meglio allo stress permettono di dormire meglio e di conseguenza anche di svegliarsi più riposati ecco siamo insomma in periodo estivo, clima vacanze ti chiedo se vuoi dare dei consigli su una corretta alimentazione per l'estate e magari sui cibi che meglio fanno per l'abbronzatura certo, certo per l'esposizione solare ci sono diversi cibi che se consumati uno o due mesi prima dell'esposizione al sole possono aumentare le riserve nella pelle per esempio di betacarotene quindi ovviamente le carote ma anche il mais o la zucca rossa i frutti rossi che sono anche questi ricchi di antiossidanti si può prontare una ricetta con il melone che è giallo e colorato tutti i frutti colorati sono ricchi di antiossidanti e di sostanze che aiutano la pelle e soprattutto anche l'occhio perché spesso si parla di invecchiamento della pelle ma anche l'occhio viene danneggiato dalle radiazioni del sole e quindi questi frutti contengono sostanze che rafforzano l'occhio quindi si può fare una bella insalata con del melone tagliato a cubetti del pollo tagliato a pezzetti e poi saltato in padella o anche solo bollito delle foglie di insalata verde, dei pinoli, delle mandorle si condisce con olio extravergine di oliva e viene un piatto fresco, gustoso e ricchissimo di antiossidanti ecco, ti ringrazio, è stato un piacere averci con noi grazie a voi, è stato un piacere e buona estate a tutti ringrazio Andrea Morello e alla prossima grazie a tutti